Benvenuta Noemi su Billboard.it Grazie Partiamo dal tuo ultimo disco, La Luna Contiene una parte più elettronica e un'altra più blues rock Come convivono queste parti? Guarda, convivono in maniera lunatica dentro di me Devo dire che io sono una fan di tanta musica diversa Però se devo dividere in due Io sono grandissima fan della musica elettronica e della musica blues Ho cercato di farle convivere in questo disco Per una questione anche di essere di sincerità Nei confronti di chi avrebbe ascoltato il disco Per raccontare bene chi sono in questo momento Sono contenta dell'incontro anche con gli autori Con cui sono riuscita anche a scrivere O comunque a lavorare sui pezzi Sono pezzi molto diversi Che raccontano cose diverse della vita Non smettere mai di cercarmi Che racconta l'amore Poi ci sta Autunno che con ironia Racconta la fine di una storia estiva Quello mi ha divertito molto Oppure c'è la luna storta Che mi descrive molto Devo dire che Ricarico mi ha preso in pieno involontariamente Non so come abbia fatto E poi si parla anche degli attacchi di panico Quello che ho cercato di fare è comunque di essere Di dare un disco variegato Sperando di lanciare un messaggio Attraverso tutte queste canzoni L'hai appena citato Il brano di Sanremo Parla di un rapporto che può continuare Nonostante tutto e tutti In realtà no Parla di quello che ci lasciano le persone Quando le perdiamo Le perdiamo di vista O le perdiamo del tutto Perché poi purtroppo può succedere E in realtà È anche una A me piace molto il ritornello Mi piacerebbe che le persone Lo vivessero come un qualcosa Da urlare al mondo Perché è un messaggio molto chiaro Di legame con gli altri Oggi siamo molto chiusi Nei nostri computer Nelle nostre vite Vogliamo essere Esserci Ma non esserci per gli altri Non vogliamo trovare noi stessi Le persone con cui abbiamo avuto a che fare C'è molta chiusura Invece mi piace questo messaggio In qualche modo mi sembra Come se fosse un approfondimento Su una frase che c'è In sono solo parole Che dice Ed ora penso che il tempo che ho passato con te Ha cambiato per sempre ogni parte di me Ecco questo è il significato Di non smettere mai di cercarmi Cioè quello che ci rimane Quando le persone Che abbiamo vissuto Che ci hanno dato tanto Nella nostra vita Può essere una storia d'amore Ma può essere un rapporto importante Con un figlio Con un padre Con uno Cioè La vedo molto in maniera universale Anche se poi La strofa Le strofe del pezzo Parlano Di una storia d'amore Assolutamente Però io credo che il ritornello Sia molto Molto universale Quindi Parla di questo In qualche modo L'equazione dell'amore L'hanno messa in musica No? Che è l'equazione di Dirac E questo mi ha Credo che la spiegazione Di questo pezzo Sia questa Per me Poi ognuno ci veda Quello che vuole Questo è anche un disco Molto legato Alla figura Di Lucio Dalla Hai inserito Una cover Per me molto bella Commovente Di Domani Come è nato Questo tuo legame Con Lucio? Ma io Lucio Dalla L'ho sempre ascoltato Tantissimo I miei genitori Sono sempre stati Dei gran fan Di Lucio Dalla Anche perché lui Ha un grande legame Con la musica jazz Con la musica blues Americana Ed è un gusto Che nelle melodie Negli arrangiamenti Ritorna tantissimo Domani in realtà Dove essere La cover Di Saramo 2016 Però siccome Poi giustamente C'era Gaetano Gaetano essendo stato Grande amico E poi avendo suonato Con Dalla Era più giusto Che la portasse lui E però Non volevo rinunciare A pubblicare Questa canzone Che ha arrangiato Celso Valli Perché mi emoziona tanto Ti giuro Guarda cantare Il testo Mi fa sentire Forte Mi fa sentire forte Devo dire la verità E non so Magari sto Sto impazzendo Come succede A molte persone Che fanno Il mio mestiere Però Mi piace E poi sono Delle frasi Incredibili Che descrivono bene E ecco Anche la stessa cosa Che poi c'è Non smettere mai Di cercarmi Che magari In scritta in maniera Più semplice Però Il fatto di Di un rapporto Che finisce Di questa persona Che aleggia sempre Intorno a noi Ne sentiamo l'odore Come i cani Che non si incontrano Però Però sentono Che c'è Che c'è Un qualcun altro Ed è stato molto bello Poi in realtà Ci sono un paio di pezzi Molto dalliani Sia nella produzione Per esempio Oggi non esisto Per nessuno Sia nella scrittura Del testo Io credo Che oggi Non esisto Per nessuno Abbia Abbia dei guizi Particolari Pulli Che è un autore Giovannissimo Ragazzo Che ha Un immaginario Pazzesco Ed è il motivo Per cui Sono due volte Che lo inserisco In due album Diversi Sì Per me Diventerà un autore Molto forte Nei prossimi anni Grazie Prego